Il primo prodotto che andremo a degustare è il nostro classic leddy, whisky non torbato. La particolarità di classic leddy è sicuramente la sua non torbatura. E abbiamo, notiamo, un bouquet di fiori molto particolare accompagnato dalla dolcezza dell'orzo e la morbidezza donata dal legno, legno di rovere. Sul finale abbiamo anche della sapidità, donata dalla maturazione in botti vicino appunto alla costa atlantica e delle note agrumate, arancia predominante su tutte. Grazie a tutti!